Laudetur Jesus Christus, cari amici teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchigadiesi che vi parla oggi 1 gennaio 2022 per il nostro commento del giorno. Voglio oggi darvi la misura e l'idea di quella che è la funzione della disinformazione e dell'informazione ideologicamente indirizzata in una certa direzione. L'Italia sicuramente è uno dei paesi che più di tutti al mondo ha subito un attacco spaventoso in corso tuttora che la sta cercando proprio di distruggere e stravolgerne la sua stessa natura per trasformarla in un paese senza anima, senza più storia, senza più cultura, senza radici, senza tradizioni, ridotta a un popolo di schiavi, è un popolo di persone sottomesse a un regime tirannico. L'Italia è certamente l'obiettivo principale perché è la culla del cristianesimo, è il centro della cristianità e la sede del vicario di Cristo e proprio per questa ragione contro l'Italia si concentrano gli attacchi più spietati per cercare di distruggerla in tutta la sua realtà, in tutta la sua sostanza, sia dal punto di vista spirituale si vuole distruggere l'anima cattolica dell'Italia, le sue stesse radici, il diritto naturale, piegarla da una situazione di benessere in cui è vissuta e ha prosperato grazie all'ingegno, all'intelligenza, alla buona volontà, l'operosità di tutti gli italiani, l'hanno ridotta ormai in un paese che è degno di essere annoverato tra quelli del terzo mondo, proprio per la situazione catastrofica in cui stanno cercando di farla sprofondare, nonostante vediamo comunque la risposta sempre più davvero eroica e straordinaria di tutte quelle persone che lottano, che resistono e che cercano in tutti i modi di trovare, come è sempre stato nella storia d'Italia, delle strategie, delle alternative per poter sopravvivere. Qui si vede l'ingegno, l'intelligenza, la capacità degli italiani proprio di trovare delle soluzioni straordinarie per venire fuori da queste gravissime situazioni. Situazioni, vedete, che non solo esigono una rinascita dal punto di vista economico, dal punto di vista materiale, ma una rinascita soprattutto dal punto di vista spirituale, perché la purificazione è in corso, le terribili sofferenze a cui sono sottoposte gli italiani sono una lezione che la provvidenza di Dio ci sta dando per tornare a riflettere su quelle che sono le nostre radici, la nostra storia, la nostra anima, senza la quale, senza quest'anima, cari amici, non si va da nessuna parte. Ed è proprio, vedete, nelle restrizioni, nelle riduzioni delle nostre libertà individuali ogni giorno, nelle nostre prove, nelle angosce, nelle fatiche, nelle minacce, nelle emarginazioni sociali, che il Signore ci spinge e ci richiama a riscoprire quell'anima senza la quale l'Italia non avrebbe avuto nessuna storia, nessun senso, soprattutto non avrebbe nessuna possibilità in questo momento di poter risorgere. Ed è in questo richiamo alle sofferenze che il Signore ci sta dando tutte le grazie, tutti quegli aiuti straordinari che servono proprio per poter cominciare a rimettere ordine nelle nostre vite, a capire che senza Dio, senza la fede, senza la Chiesa non si va da nessuna parte. Senza il ricorso a ciò che è immutabile, soprannaturale, non c'è futuro, non c'è storia, soprattutto per il nostro paese, un paese che è stato chiamato, vedete, a svolgere un ruolo centrale nel mondo e che tornerà a farlo se noi corrisponderemo alla grazia di Dio nella difesa della verità, soprattutto in spirito di umiltà e di carità. Ma vedete, cari amici, dicevo inizialmente che per capire proprio il livello di bombardamento mediatico e di disinformazione in cui stiamo vivendo e in cui siamo precipitati in questi ultimi anni, vi porto alla vostra attenzione una lettera molto interessante che mi è stata scritta da un carissimo amico che vive in Bosnia-Herzegovina, a Sarajevo, e che ha sempre svolto un ruolo fondamentale proprio all'interno del mondo cattolico della Bosnia-Herzegovina. Un carissimo amico che per ragioni di riservatezza, non dico il nome e le funzioni, ma che è un fraterno amico. Voi sapete che io sono stato per tanti anni in Bosnia-Herzegovina, a Sarajevo, dove ho potuto collaborare e conoscere la realtà cattolica locale molto da vicino, godendo anche della stima dell'amicizia del primate di Bosnia-Herzegovina, che è il cardinal Vinko Pulic, che ricordo sempre con un affetto straordinario per la sua paterna amicizia e per la sua veramente coraggiosa testimonianza, sia nei momenti difficili della guerra, sia anche nella fase successiva, che ha visto un assestamento difficilissimo del paese e una situazione veramente di grandi difficoltà di ogni ordine e grado che vivono ancora oggi i cattolici in Bosnia-Herzegovina. E pensate cosa mi scrive questo carissimo amico rispetto a quello che sta accadendo in questo momento in Bosnia e che ci dà un'immagine di una situazione completamente diversa da quella che noi stiamo vivendo sotto attacco, sotto questo attacco frontale in questo momento. E mi dice questo, finora, carissimo Pierluigi, finora per fortuna la Bosnia-Herzegovina è l'ultimo paese libero, forse nel mondo intero, non abbiamo nessuna restrizione, non ci sono i covid certificati, non ci sono le mascherine, le porta chi vuole, ma quasi nessuno, tutti gli impianti di sci sono in piena funzione, la gente si comporta come prima del covid, i vaccinati sono meno del 20% della popolazione, gli ammalati di covid sono anche pochissimi, gli ospedali e gli ambulatori sono vuoti. La situazione del covid in Bosnia è qualcosa di molto particolare, di cui non parla nessun media statale, fuori questo paese, non se ne parla, perché siamo fuori dalla loro agenda e non sarebbe una buona pubblicità a parlare di noi. Per entrare in Bosnia-Herzegovina non servono i covid certificati, i tedeschi qualche giorno fa hanno tolto la Bosnia-Herzegovina dalla lista dei paesi rischiosi per il covid, per entrare in Germania, siamo l'unico paese in Europa con questo stato in Germania e tutto quest'anno, 2021, abbiamo fra 7 e 20 volte meno nuovi casi che per esempio in Croazia. Ecco carissimo Perluigi, siamo ancora lontanissimi dalle dittature europee, noi pensiamo che anche per questo la Bosnia ha meritato la presenza della Madonna e tutto quello che succede qui. I francescani in tutto il nostro paese francamente parlano con forza e con coraggio contro il nuovo ordine mondiale. In Herzegovina nessuno rispetta nessuna regola, la gente vive assolutamente un clima di normalità, le chiese sono sovrappiene e l'unica medicina per il popolo croato è Gesù. I problemi polistici esistono anche qui e aumentano, ma sopravviveremo anche a questo problema. Ti auguriamo ogni bene per l'anno nuovo con un abbraccio fraterno. Ecco cari amici una situazione molto evidente, molto chiara, palese di quello che sta accadendo in questo momento, in uno spaccato che mette in luce come la menzogna, la falsità, l'inganno demoniaco si faccia strada soprattutto in quei paesi che per secoli hanno testimoniato la fede, ma che a causa dei loro tradimenti, a causa anche dei loro cedimenti dal punto di vista morale e dal loro ripiegamento su se stessi, oggi subiscono, vedete, un'offensiva senza precedenti che non è altro che un richiamo da parte della provvidenza di Dio per ritornare a svolgere un ruolo provvidenziale nella storia che l'Italia tornerà a svolgere, perché l'Italia è una terra benedetta voluta dal Signore per essere un faro di luce, un punto di riferimento fondamentale per il mondo intero. Ed è proprio questa terra benedetta italiana, cari amici, questa nostra nazione consacrata più volte al cuore immacolato di Maria che da queste atroci sofferenze in cui si trova a vivere oggi risorgerà in un modo che assolutamente, difficilmente potremo immaginare. E a partire dalle sofferenze che si riscoprano, le questioni che contano, si riscopre innanzitutto il senso della realtà, si ritorna a difendere coraggiosamente ed erogamente la fede. Ed è proprio in questo spirito che noi affidiamo a questo inizio d'anno 2022, la nostra patria, la nostra Italia, al cuore immacolato di Maria, cari amici, perché torni presto ad essere quel paese che la provvidenza di Dio ha voluto fin dall'eternità come luce, come faro, come punto di riferimento per la Chiesa intera e per il mondo intero. Ed è in questo auspicio, cari amici, tele-radioscoltatori, che auguro a tutti voi un buon anno 2022 nel cuore immacolato di Maria, nostra mamma amorosa, corredentrice, e nostro punto di riferimento verso il trionfo di questo cuore immacolato che segnerà l'inizio della nuova aerea e della civiltà cristiana che ci attende sempre più vicini. A tutti voi l'augurio di un buon anno. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus.